Sto dipingendo una tartaruga che rappresenta un po' il cambiamento che ci dovrà essere nel mondo e ho disegnato appunto una bambina che è a cavallo di questa tartaruga e rappresenta un po' la rivoluzione dei bambini. Vamo a tornare in provincia di Foggia dove sta finendo la quarta edizione del festival di street art chiamato Stramurales. Sonare è un paese prettamente agricolo nella campagna pugliese assolatissima, caldissima e anche quest'anno siamo riusciti a portare a termine la nostra edizione che facciamo da quattro anni. Attualmente abbiamo 75 murales che diventeranno con la fine di agosto o i primi di settembre aspettiamo ancora altri tre artisti diventeranno 78 che per un paese comunque di meno di 6 mila abitanti sono tantissimi. Il tour si può fare organizzato con noi o con la Trouelet che ci aiuta a fare visite guidate in un'ora e mezza a due come girare per un museo però girare liberi, a cielo aperto, tranquilli e noi siamo orgogliosi. Il nostro tentativo, la nostra speranza era quella di fare parlare di arte e tornare in pieno nel male e ora da un po' di anni si comincia a parlare di arte in questa città ed è, io trovo una cosa bellissima.